Arrivo ad Ascoli e prima cosa devo studiare bene la situazione, perché la situazione mi dà il quadro completo e mi fa fare tutte le riflessioni che devo fare. Quando poi ho il quadro completo, stabilisco gli obiettivi e poi preparo la settimana per allenarli. Adesso un po' vado veloce perché servono 6-7 ore di corso, quindi è veramente abbastanza lunga. Allora, quando arrivo, quali sono le mie priorità? Intanto è capire quali sono i giocatori più forti che ho a disposizione. Poi è capire quali sono i punti deboli della squadra e per punti indeboli intendo soprattutto dell'ultimo periodo, perché se uno vede l'Ascoli ha viaggiato a due velocità, una prima parte molto bella e una seconda parte, prima che arrivasse io, con enormi difficoltà. Quindi io analizzo soprattutto l'ultima parte, che è quella anche che ha dei condizionamenti psicologici, perché i ragazzi sono demoralizzati e hanno bisogno anche di cercare di capire come andarli a stimolare. Capiti i punti deboli, capiti i giocatori più forti, devo decidere come giocare, cioè con quale modulo gioco, perché là poi passa tutto quello alla mia proposta di lavoro. Io come allenatore ho studiato e continuo a studiare tutti i moduli, perché sono dell'idea che più alternative ho, ben codificate e con la capacità di trasmetterle bene, e più veramente riesco a incidere sul gruppo in breve termine, perché poi io sono uno che viene spesso chiamato a subentrare e ho pochissimo tempo. Deciso il modulo, decido poi che strategie usare, perché ogni modulo può essere fatto in mille maniere. In base ai punti di forza dei miei giocatori più forti, decido che strategie utilizzare. È la mia prima settimana, non posso però non pensare all'avversario, perché logicamente poi l'avversario mi condiziona, deve essere l'impatto migliore possibile una settimana e devo farlo in maniera che appunto si possa fin da subito incidere e trasmettere positività al gruppo. Quindi parto con l'analisi dell'Ascoli. E cosa guardo quando arrivo in una squadra? Guardo le ultime partite, guardo i moduli che ha utilizzato in stagione, guardo la storia del club e per storia del club non intendo quanti scoletti ha vinto, ma intendo negli ultimi anni come ha giocato, ci sono dei posti che quasi ti richiedono di giocare in una certa maniera, o hanno quasi sempre fatto bene con un certo modulo. Quindi secondo me questa è una cosa che devi anche prendere in considerazione. Guardo delle statistiche che mi dicono appunto come posso, cioè se quello che vedo è rafforzato anche dai numeri, vedo punti deboli e vedo punti di forza. Qua ad esempio l'Ascoli aveva fatto due moduli, uno fino alla sesta giornata con una media punte di 1.33, che era il 4.33, e uno dopo con una media molto più bassa. Qua già mi dà una piccola indicazione, che la difesa 4 questa squadra può farla, e che la difesa 3 invece ha avuto dei grossi problemi. Poi qua, adesso vado molto veloce, faccio vedere i moduli che utilizzava, vado a vedere gli ultimi anni, quando mi manca, devo ancora completarlo perché è un corso che dovrebbe essere pronto tra 20 giorni, e vedo che l'Ascoli nelle ultime stagioni le sue cose migliori le ha fatte soprattutto col 4-3-1-2. Penso a Sottili che ha centrato i play-off e l'anno prima li ha salvati. E vedo che ho 8 undicesimi, che sono gli stessi del gruppo che giocava 4-3-1-2, quindi so che 8 vanno già quasi in automatico. E questo mi permette di guadagnare tanto tempo e di andare subito a, intanto a trasmettere un cambiamento, perché se tu vai in un posto e fai le stesse cose, anche i ragazzi ti dicono, sì ma scusa mister, così siamo andati in difficoltà e tu mi fai fare le stesse cose. Quindi c'è anche bisogno di far vedere qualcosa di diverso. Farlo con qualcosa che hanno già fatto e che gli ha dato degli ottimi risultati, quindi aumentando subito e immediatamente l'autostima, diventa sicuramente un punto di forza. Vado a vedere qualche stagione, cioè le stagioni a confronto e vado a vedere l'anno scorso che hanno fatto i play-off con il 4-3-1-2 e quest'anno che invece sono in difficoltà. Uso dei parametri, uso l'IPO, gli RD che poi la volta spiegare, vado a vedere qualche numero e studio anche qua qualche numero e vedo le differenze. vado a vedere appunto con le rose che ho a disposizione quale modulo potrei fare, perché io mi presento a parlare con la società, con dei fogli dove dico, secondo me questi sono i numeri e i moduli che potremmo fare sono questi. Do delle alternative, perché tante volte tu vai in un posto e anche vedi che loro s'aspettano che tu vada a giocare in una maniera, quindi non è per forza così, perché se tu pensi diversamente attraverso la convinzione delle tue idee devi fai cambiare idea, però avere due o tre alternative ti fa capire anche loro dove sono intenzionati magari a fare. Poi loro sicuramente conoscono anche meglio di te i giocatori, perché li vedono da anni, e possono darti indicazioni su come muoversi. E da là poi vado a dire quali sono stati i difetti per me dell'Ascoli di questo periodo. Per me la manovra era lenta, soprattutto appunto nelle mie partite. Scappavano dei duelli, cioè non cercavano, anche i difensori, nonostante fossero forti e strutturati, non cercavano mai l'uno contro uno. Avano difficoltà a gestire gli spazi. Quando andavano sotto di un gol, praticamente andavano fuori dalla partita, e i giocatori erano piatti. In che senso erano piatti? Che sia i più forti che i più deboli erano uguali. Cioè, quando le cose van male, non riesci a vedere chi è più forte. L'obiettivo dell'allenatore è ristabilire una gerarchia e permettere ai più forti, in poco tempo, di passare da un 5-6 a un 7-8, come nelle loro corde. E qua analizzo e faccio vedere, anche qua da completare, proprio l'analisi che ho fatto dell'Ascoli con i video che ho utilizzato io per vedere appunto quali erano i punti di forza e i punti deboli. Da là sono andato alla scelta del modulo. Sto passato subito al 4-3-1-2. Quando già scegli il modulo, ti vengono richieste delle cose diverse, perché passo da una linea 3 a una linea 4, e quindi certamente devo lavorare in maniera diversa e velocemente. Passo a una gestione dell'ampiezza diversa, perché il 3-5-2 copre l'ampiezza con i quinti, col 4-3-1-2 l'ampiezza non la copri con i quinti, in entrambe le fasi, quindi devi trovare degli aggiustamenti, sia in fase difensiva che in fase offensiva. La profondità con la linea 4 va gestita in maniera diversa, ma anche gli attacchi e le transizioni offensive vanno gestiti in maniera diversa, perché il 4-3-1-2 è un modulo che ti permette di avere delle ottime transizioni. Cambiano gli sviluppi in fase di possesso, perché un conto è impostare contro i difensori dietro, e tutto quello che ne comporta, un conto è impostare con una linea 4 e con un mediano con una mezza punta, e secondo me poi un'altra cosa che volevo ottenere da questo modulo era l'intercambiabilità dei ruoli, cioè per me c'erano dei giocatori che potevano fare più ruoli, col 4-3-1-2, e in base al momento della gara o alle caratteristiche dell'avversario potevo utilizzarli in una zona o nell'altra, quindi era un altro obiettivo che io mi ero prefissato. Poi dopo viene fuori l'avversario, che è il Perugia. Il Perugia è una squadra tosta, perché in quel momento, poi è retrocesso, ma la partita prima aveva avuto 4-0 con il Brescia, ed aveva un ottimo stato di forma, veniva da 3-4 risultati, forse anche di più, tutti positivi con tante vittorie. Caratteristiche del Perugia, quali sono? Giocano sempre in verticale, come tutte le squadre di Castori, tutti uno contro uno, hanno un po' mantenuto le caratteristiche dell'anno scorso, di Albini, danno ampiezza con i quinti, transizioni veloci vanno subito in avanti, pressing sui difensori nostri, e palli attive battono tutto veloci. E qua, qualche minuto, riusciamo a vederlo dell'analisi che ho dato ai miei ragazzi, un'analisi veloce, dove sono andato un pochino a far vedere queste cose qua. Questa è la fase offensiva del Perugia, non la nostra. Calcio di inizio, e subito loro, non è codificato perché si vede che è una zona, però subito forti sulle pressioni avversarie, e subito una mentalità aggressiva alla squadra. Cosa vedo qua? Subito. Vedo che fanno fatica, se porto fuori il loro quinto, a coprire la spazio dietro al loro quinto, e quindi devo attaccarle o con le mie mezzale o con le mie attaccanti. E un'altra cosa, che se faccio dei cambi gioco, i loro due centrocampisti, dopo un cambio gioco, da essere stretti, come si vede adesso, guardate come dopo 30 secondi già sono larghi, e quindi là è una zona che posso utilizzare con la mia mezza punta. Infatti anche qua, questo albari, va subito in questo tipo di zona. E quindi già delle indicazioni massime. Un'altra indicazione, come vi ho detto, verticalizzazioni subito e immediate. Punta che parte e che riceve, non ci pensa due volte, va subito in avanti. Anche qua, poi, loro, nel fondo fanno finta di giocarla vicino, disposizione su costruzione bassa, salgono tutti, vanno a destra, dove hanno i saltatori migliori, e vanno a creare seconde palle e duelli in quella zona di campo. Infatti, cercano subito, soprattutto casa sola, ma portano la palla dove hanno i migliori saltatori. E poi cercano, che è il loro punto di forza, tutti duelli uno contro uno. Sono tutte palle sporche, perché hai sempre l'uomo addosso. battono veloce, come si vede qua, poi l'arbitro li fa intergiare, però, di visto che il quinto andava subito veloce. Questa è un'azione del Bari, dove anche qua vediamo come, appena sono in possesso, vanno in avanti, e ancora sempre palla avanti, sempre ricerca della profondità. E subito, riaccorciare sulle seconde palle con gli avversari. Un'altra caratteristica è che mi sembra che si vede dopo, soprattutto a destra, appena possono vanno a crossare e riempiono l'aria con tanti giocatori. Infatti qua, centrale, quinto, inserimento della mezza punta, che è Quan, che è un centrocampista più di quantità che di qualità, e subito vanno ad attaccare quello spazio con la mezza punta. Vanno da parte apposta, non tanti fraseggi, anche qua, palla lunga e seconde palle, quindi attacco a profondità, anche se non c'è, e subito, immediata riaggressione sulle seconde palle. E si trovano, già, nella metà campo avversaria. Quinto, che è casa sola, stoppo e crosso, e sempre quattro giocatori. Questi sono tutti aspetti che io dovevo allenare poi durante la settimana. E di aggressione, vedete, immediata, sulla palla persa. Cosa succede? Quando riesco a uscire, lasciano campo aperto, perché essendo tutti in aggressione, è una squadra che poi dopo fa fatica a gestire gli spazi. Infatti il Bari esce dalla pressione e crea una situazione molto interessante. E qua vado avanti, praticamente, sono 12 minuti di video, adesso giriamo un po', dove faccio tutte le analisi del Perugia. Poi qua faccio vedere sotto con le uscite, sempre con la lavagna tattica, proprio le uscite del Perugia, che sono molto simili a quelle che abbiamo visto prima dell'Atalanta. Ok, studiata la situazione, devo preparare la settimana. quindi devo svilupparla, devo inserire i miei obiettivi, devo anche gestire i carichi. Io ho una settimana tipo, che è più o meno questa, dove ho un doppio il martedì, ho un pomeriggio subito successivo e ho sempre più o meno questa distribuzione dei lavori. Qua si vede i lavori in senso non specifico, ma a grandi termini. Perché faccio il doppio? Non per forza, perché voglio far carichi importanti, ma perché io ho bisogno, quando subentro, di avere tante esercitazioni. E quindi metto dentro un allenamento in più, perché voglio appunto far tattica di reparto, come vedete al mattino, voglio fare tanti, tanti tipi di lavori. E invece il mercoledì lo metto il pomeriggio e non la mattina, perché dopo due allenamenti, che sono quelli del martedì, nella stessa giornata, voglio dare una mezza giornata di scarico al mattino. Durante la stagione, spesso e volentieri, quello del mercoledì, quando ormai siamo abituati ai nostri carichi, andava al mattino. Poi viene la settimana, proprio la mia prima settimana ad Ascoli, dove devo mettere dentro gli obiettivi. Quindi, quali sono le mie cose principali? Allora, andare in avanti velocemente, perché la forza dell'Ascoli di Sottil era subito le transizioni e la capacità di trasformare un'azione difensiva ad offensiva. Io voglio, avendo otto undicesimi di quella squadra, di Keralta subito. Voglio tornare a far dire a miei giocatori, che sono convinto che siano forti fisicamente, a vivere i duelli, gli uno contro uno, con sicurezza. voglio rimanere in partita, perché secondo me rimanere in partita vuol dire anche dopo l'1-0, cioè, non andare all'arembaggio, ma fare in modo che magari porto la partita verso la fine e ho l'occasione poi dopo, casomai, di non di ripareggiarla. Voglio dare fiducia ai giocatori più importanti. In che senso? Abbiamo detto che sono tutti livellati quando le cose vanno male, io invece voglio fargli sentire a chi secondo me è più forte che è importante, che conto su di lui e attraverso gli unioni, parole, esercitazioni, fargli capire che ho bisogno di lui. Poi non è che gli altri li abbandono, però la prima settimana devo dar subito dei segnali forti e poi è logico che devo codificare un nuovo modulo in pochi giorni che non è semplice. Quindi quello schema che abbiamo visto prima diventa questo schema qua dove, per esempio, le esercitazioni sono diventate, prendiamo lunedì, un riscaldamento, un uno contro uno perché è lanciato, questa settimana metto tre volte l'uno contro uno, tutti e tre diversi, ma proprio perché abbiamo visto che voglio capire sicurezza nei duelli. Metto un lavoro fisico che è un corner di partenza perché ho bisogno di lavorare fisicamente perché appunto le ripartenze fanno parte di un lavoro, di un carico fisico importante, ma voglio usare nella stessa esercitazione anche qualcosa che mi migliori nei corner, soprattutto nei tempi di gioco e nei tempi di battuta e negli spazi da attaccare. Poi dopo viene un'altra esercitazione che poi farò anche vedere che è un 8 più 2 contro 2 più 2 per fare la fase difensiva per le ripartenze, per l'ammarcamento in aria per tante cose. Un secondo lavoro fisico che questa volta lo faccio a secco ma non perché voglio un pochino diminuire il carico. Io so che quando metto dei lavori tipo il corner di partenza sono molto dispendiosi perché ti costringono ad andare sempre forte. È la mia prima settimana, non so come l'hanno lavorato ma a prescindere da come l'hanno lavorato c'è sempre un adattamento da fare quindi metto un lavoro fisico più blando per una partita a metà campo e da là tutti i giorni sempre con degli obiettivi. cercando di inserire più cose possibili da punto di vista tecnico e tattico. Se infatti andiamo a vedere delle cose dopo vedete che vado a toccare tanti obiettivi di tutti i generi. di rimanere in partita è un video che faccio vedere di una partita tra il Barcellona e l'Atletico Madrid dove il Barcellona è quello della squadra più fuori di tempi davanti su Arez, Messi come si chiama l'altro attaccante che sta al Paris Saint Germain vabbè bravo è Neymar che mi veniva in questa partita l'Atletico va in vantaggio poi sempre va 2-1 rimane addirittura in 9 però riesce a rimanere in partita fino alla fine faccio vedere come e alla fine non ha un'occasione limpida ma una situazione che poteva portarla al pareggio quindi rimanere e rimanere in partita in 2-1 contro la squadra veramente se non sei super concentrato e super mentalizzato fai fatica quindi io faccio vedere cosa vuol dire rimanere in partita e cosa vuol dire rimanere concentrato poi appunto ecco qua come ho distribuito i lavori qua vediamo che tattica collettiva tattica di reparto tattica individuale tecnica palli inattive partite li tocco tutti 6 di tattica collettiva che perché devo cambiare modulo ma 5 di tattica di reparto dove uso anche dei riscaldamenti uso un pochino tutto 3 di tattica individuale che sono gli 1 contro 1 tecnica con dei percorsi tecnici o con altre cose palli inattive in questa settimana ci sono 4 lavori senza palla nella mia settimana tradizionale tante volte ce ne sono 0 perché qua ne metto 4 perché appunto ho paura dei carichi di lavoro dell'adattamento e quindi faccio delle cose più un pochino più semplici dove sono corse un pochino più controllate in certi momenti della settimana e anche mentalmente do un pochino di recupero perché gli altri lavori anche mentalmente invece c'è un carico perché se faccio una pallina attiva e poi devo correre c'è un carico anche cognitivo oltre che fisico e poi dopo c'è lo sviluppo degli elementi che abbiamo visto la scelta delle esercitazioni obiettivi multipli in che senso abbiamo visto prima col lavoro fisico non c'è un unico obiettivo ma c'è che ne so una pallina attiva e e anche una appunto una ripartenza e un lavoro fisico quindi obiettivo multiplo questa è un io lavoro con lo stesso preparatore con Donatello Matarangolo che forse sente anche qua ormai da tantissimi anni ed è una proposta che abbiamo curato nei minimi particolari testandola anche con GPS testandola nei recuperi testandola in mini maniere e sapendo cosa ci porta io di solito come staff mi porto sempre solo due persone l'altro è Vicenzo che mi cura la parte di video e anche fa il mio secondo che sa come lavoro tutti e due mi fanno guadagnare un sacco di tempo e e sanno e siamo mai mentalizzati tutti uguali poi mi piace avere qualcuno del posto non è perché in B te li fanno sempre tenere e poi perché ti permettono di conoscere prima l'ambiente e anche lì di guadagnare tempo quindi obiettivi multipli carichi di lavoro io so che quella settimana mi porta a certi carichi di lavoro dove i primi tre giorni la gente va in fatica enorme e poi gli ultimi due sono più di scarico e vado più su obiettivi cognitivi fluidità perché voglio elementi veloci non corti io faccio elementi a volte lunedì diventa quasi di due ore quindi non corti però certamente molto fluidi e poi nelle esercitazioni voglio che siano efficaci in che senso non estetica perché a volte ci sono delle esercitazioni che sembrano belle però poi quello che tu provi non te lo trovi in campo un po' perché magari possono anche essere studiate male un po' perché sono in base anche alle caratteristiche dei tuoi giocatori faccio un esempio io ero in un posto senza far nomi dove facevamo durante la settimana dell'iniziazione fantastici belli proprio di qualità poi arrivava la partita e i difensori centrali si giravano dall'altra parte e non la volevano la palla e quindi cosa lo provo a fare è meglio che provo magari un rivio lungo come vi ho visto prima che diventa molto più più consono alle caratteristiche dei miei giocatori e qua ogni giorno ho messo per ogni allenamento obiettivi e ogni allenamento poi dopo vediamo lunedì vado poi dopo a spiegare gli obiettivi faccio un video delle esercitazioni anche un video e spesso e volentieri anche una parte animata così lunedì così il martedì dove sono caratteristiche dell'allenamento qua c'è un doppio quindi caratteristiche della mattina e caratteristiche poi del pomeriggio e qua ogni lavoro vedete c'è sempre obiettivi animazione e video i video sono quelli proprio dei miei allenamenti ho avuto il permesso da Rascoli di farli vedere sono elementi che noi riprendiamo sempre anche negli annati passate e quindi faccio vedere proprio come dopo si sviluppano in campo ma poi vedremo un esempio concreto mercoledì uguale caratteristiche dell'allenamento e tutto il resto giovedì e venerdì uguale adesso andiamo a vedere questo qua 8 caratteristiche dell'allenamento giornata pesante perché appunto a volte sono due ore subito intensità perché col preparatore con Donatello partiamo fin dal riscaldamento a 1000 all'ora tutti uguali in che senso per come la vedo io non esiste giornata di scarico o di recupero per chi ha giocato io i miei anni migliori giocatore li ho fatti con un allenatore che alla ripresa mi massacrava è vero che facevo fatica però dopo mi trovo sicuramente meglio e ho visto che anche noi come allenatori anche con giocatori anche di 40 anni c'è capitato ad allenare abbiamo avuto degli ottimi risultati e convinzione da parte dei ragazzi a far così poi c'è il cambio modulo che inizio a lavorare inizio a capire gli avversari lavoro sulla fase difensiva su cross perché abbiamo visto che riempiono l'area con tanti giocatori e che da destra crossano sempre lavoro sulle ripartenze e rientri veloci e lavoro sui corni a favore qua ogni allenamento ha tutto e qua vediamo un'esitazione quindi obiettivo di questa esitazione questa è un 8 più 2 contro un 10 più 2 posizionamento per ripartenze perché uso gli attaccanti faccio solo pensare alle ripartenze la fase difensiva in inferiorità perché faccio difendere 8 contro 10 le marcature su cross la transizione veloce e inizio anche in fase di possesso perché poi quando in possesso ritornano 10 contro 10 anche a trovare le linee di questo nuovo modulo attraverso l'animazione forse c'è ecco qua perfetto allora i rossi sono gli avversari sono il perugia 3 4 1 2 i neri più i due bianchi sono l'ascoli con il rombo 4 3 1 2 i due bianchi sono i due attaccanti dell'ascoli che non difendono poi vedete laterali due giocatori che sono due jolly che sono solo con chi è in fase di possesso e quindi praticamente già questa mi permette di lavorare con 22 giocatori tante volte tu hai più di 20 giocatori e lasciare i fermi non è mai bello in questa maniera riesco a coinvolgere due giocatori in più e poi creo delle superiorità forzate laterali in maniera che mi arrivino tanti cross e vado a lavorare come abbiamo visto prima sul riempimento dell'area e sulle marcature in area quindi scalano gioco in fase difensiva con i bianchi che non difendono quando rubo palla in maniera molto veloce qua riparto con i bianchi che adesso sono attivi e l'obiettivo è sono tutti attivi anche i rossi di superare la la linea tratteggiata non mi interessa ancora che andiamo al al tiro ma mi interessa che appunto i neri abbiano l'idea di partire subito subito in avanti e veloce il più possibile quindi di fare le transizioni subito immediate qua ad esempio c'è uno sviluppo laterale uso la superiorità quando arriva là il terzino non può andare al contrasto ma solo l'intercetto e faccio abito i miei difensori a marcare in area con questi jolly arrivano molti più cross a volte sono io direttamente che gli do la palla come rubo palla anche qua i bianchi ripartono attivi e c'è un altro sviluppo dove velocemente devo andare a ripartire con le mezzali con la mezza punta con gli attaccanti e creare appunto questa immediatezza nel superare la linea e nell'attaccare gli spazi davanti e poi dopo faccio vedere appunto la nostra esecuzione e ogni allenamento è così praticamente dove parto con i neri qua sono il perugia vedete 3 4 1 2 i bianchi sono 4 3 1 2 i due i due attaccanti che non fanno la fase di difensione poi è la prima volta che lo facciamo e loro sono proprio abbandonati là invece poi gli chiederò ugualmente di muoversi e di preparare la fase d'attacco e qua ci sono le varie scalate le uscite e i movimenti degli otto giocatori sbagliano io sono in mezzo perché sono in mezzo è vero che forse do fastidio a parte che l'arbitro è in mezzo sono blu io di solito non sono nero qua si vede poco ma i ragazzi mi distinguono però io voglio parlare subito con tutti se mi mettessi largo e fuori io ho bisogno di essere incisivo subito e parlare anche mentre giochino magari con un giocatore con due o a volte fermo il gioco quindi ho bisogno di essere a contatto con tutti quanti e sto lì in mezzo è proprio una mia scelta quando perdono azione si riparte sempre da dietro dalla linea dei tre e anche qua poi dopo appunto si sviluppa voglio le prime le prime allenamenti do poche indicazioni e voglio vedere loro come si comportano io poi questi video il giorno successivo li faccio vedere alla squadra per e qua ci sono i vari movimenti e le ripartenze per fargli vedere appunto cosa va fatto di diverso ma la correggo poco anche se sono i primi giovani mi fermo a correggere ma non tantissimo qua ci sono dei sviluppi questa la uso il giorno dopo perché la uso il giorno dopo perché abbiamo visto nel video di analisi del Perugia che se porto fuori il loro quinto là sono in pochi quindi come fanno mezzala e mezzapunta attacco quello spazio il terzino cosa che invece qua non fa deve stoppare per andare a creare questa superiorità in modo che va a puntare il quinto loro e va a creare appunto una zona di superiorità un'altra cosa che gli faccio vedere è che poi dopo nelle esercitazioni mettiamo dentro in settimana perché capita spesso che il passaggio va fatto davanti al giocatore anche se fai una scelta diversa quando poi in caso sei tu che fai quello che vuoi ma la palla non va dietro cosa che invece farà dopo ma va in avanti infatti qua vediamo che vedete che la dà male infatti la palla viene persa e qua ci sono sei minuti di questa esercitazione il video sarebbe ancora più lungo dove si sviluppa tutte queste cose e dove appunto si è a parte dopo a metà campo a metà a un certo punto ecco per esempio qua ci sono i vari cambi gioco qua insegno a non stopparla ma giocarla subito di prima perché vuol dire dare velocità gli dico e faccio vedere ragazzi prima di mente questa cosa sono molto ricettivi i primi giorni poi tutto l'anno gli faccio vedere anche gli allenamenti però magari in maniera meno continuativa faccio vedere la mezz'ala che riceve che se riceve bene può andare in avanti e andare in avanti vuol dire creare una situazione molto interessante perché guardate quanti bianchi e rosa contro neri ci sono invece lui non guarda proprio e torna indietro perdendo il tempo di gioco gli stop sono cose da migliorare e poi in ogni caso c'è sempre ecco qua l'idea di andare a attaccare questa profondità qua c'è allora nei giorni successivi è molto importante la coordinazione nell'uscita sul quinto tra terzino e nostro e mezzala nostra perché in certe zone deve uscire la mezzala e faccio vedere quando in certe zone deve uscire invece il terzino soprattutto poi nei cambi gioco qua si vede che vanno tutti e due appunto gli faccio vedere l'anamento successivo che non va bene così e che bisogna essere bravi un'altra cosa che faceva molto il il perugia era poi queste verticalizzazioni ma di a di verticalizzazione per smuovere per creare attenzione e poi perché ho visto che non sono abituati ad andare nei due giochi davanti ogni tanto io ho un pallone in mano e vado io dei due giochi davanti in maniera da ricreare quella situazione che è la marcatura in area che io voglio quindi subito chiamo palla dico da un segnale e abituo a cercare mentre scappo la marcatura in area perché io come concetto vado sempre a marcare in area e ripartenza veloce anche qua faccio vedere la mia mezza punta che ha messo male perché con una posizione diversa del corpo può girarsi e puntare a campo aperto e come abbiamo visto e come faremo vedere ancora di più nel video di analisi di Perugia spesso loro sono a campo aperto se riparto veloce e quindi però non devo sbagliare le scelte gli stop e le posizioni del corpo vedete tornando indietro e qua addirittura da ripartire io perdo palla e sono tutte cose che attraverso questi video analizzo ai ragazzi questa è una ripartenza veloce queste sono rispinte sono tutte cose che poi dopo sono tutti input che a me servono qua è una situazione come prima se il nostro terzino puntasse il loro quinto si apre un gioco completamente diverso i movimenti dell'attaccante è giusto il movimento da mezzalo a mezza punta adesso non so quale sia delle due è giusto ma lui non li guarda neanche e torna al centro perdendo palla e quindi devo velocemente mandare questo concetto perché la nostra partita sarà fatta tutto sullo sviluppo di superiorità laterali oltre che centrali perché noi lavoreremo durante la partita sia sulla ricerca della mezza punta sia però quando capitano queste situazioni sulla ricerca di canna superiorità contro il loro quinto di centro campo ecco qua giusto cercano il jolly e anche qua c'è un grosso e un'azione ok qua mi vale anche per i neri perché mi serve per capire come stanno mentalmente i giocatori e vedo che un quinto che ha gamba perché questo è un giocatore con enorme gamba ha campo ma non lo attacca e invece farò vedere anche a lui il giorno successivo che a prescindere che giochi con una squadra o nell'altra come nostro principio c'è quando hai campo di attaccarlo in avanti invece lui nonostante ne abbia guardate che fa torna indietro non guarda neanche e invece no io voglio che la gente vada in avanti veloce e crea subito difficoltà all'avversario e il tempo è un elemento fondamentale per questo qua poi ci sono dei movimenti due attaccanti Fuchsia qua sono fermi anche loro poi insegnerò dei movimenti anche se non parteci a una fase difensiva per andare a prenderli questa è un'altra giocata che loro ogni tanto fanno qua c'è un cambio gioco tutte situazioni che mi devo abituare a fare una sponda e vedete tanti giocatori neri in aria da marcare anche qua spiegherò che non va persa palla ecco qua qua agli attaccanti farò vedere che palla nostra devono subito diventare delle alternative di gioco per i miei giocatori che saranno pressati e hanno bisogno di vedere un movimento o incontro ad attaccare la profondità da parte dei miei attaccanti invece stanno là un po' a guardare infatti poi riperdiamo palla questo è l'inizio è un ibrido delle nostre idee quindi è logico che ci stanno anche degli errori ma è giusto che sia ecco bene punto 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 è quello che voglio creare una mezza punta là e questo attacco poi dei nostri attaccanti poi dopo che succede qualche minuto tolgo i fucsia e diventano bianchi quindi difendo in dieci e faccio vedere dietro ai miei giocatori come diventa molto più facile li ho adattati in inferiorità e adesso che abbiamo tutti i giocatori diventa un pochino più più facile e più semplice e qua dopo facciamo qualche minuto appunto con 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 tutti i dieci effettivi a difendere poi il video va avanti e ci sono ancora sviluppi altre condizioni altre situazioni da da analizzare allora questa settimana ci sono dei lavori qualche d'uno che poi rifarò anche successivo ma tanti non li faccio più perché so cosa mi danno i primi giorni ho bisogno i primi giorni non di mettere mille obiettivi ma di mettere le cose più importanti perché avete visto ho bisogno di lavorare su di noi sul modulo nuovo sul Perugia e quindi non posso fargli troppe cose poi dopo li cambierò e ci sono esercitazioni di questa settimana che magari non farò neanche più però ci sono tanti esercizi che continuerò a fare per me d'otto contro due con lì un lavoro che con caratteristiche diverse continuo a fare di uno contro uno li farò sicuramente meno perché qua abbiamo visto che li ho fatti tre volte in una settimana e quindi li farò continuo a fare però sono tutte cose che poi moduliamo in base a quello che vediamo in campo e gli obiettivi che ci danno anche le partite fatte perché poi ogni partita ci dà dei feedback da analizzare e da mettere dentro i nostri obiettivi quindi questo mi piaceva fare un lavoro proprio per far capire un pochino come è tutta la nostra struttura negli allenamenti credo che sia molto interessante perché appunto faccio vedere tutti i video dei miei allenamenti gli spiego anche i riscaldamenti tattici anche gli uno contro uno girato ci sono mille tipi di mille mille no ma tantissimi tipi di lavori che che andiamo ad affrontare ognuno andando per obiettivi per esempio qua c'è un lavoro alle parti qua c'è un 10 contro 3 per le marcature preventive che abbiamo visto che è un problema cioè ci sono più cose che andiamo a toccare e non ho usato filtri vado veramente a dire tutto quello che sento o non dico magari non tutto ma certamente tantissimo senza aver paura di segreti che non esistono ma andando molto con la voglia proprio di condividere questo un pochino è l'analisi di questo mio corso angelo se ci sei se volete far domande ragazzi se avete domande per il mister noi per quanto riguarda diciamo una mia con il mister ne abbiamo già parlato tanto di questa sua nuova diciamo così iniziativa per quanto riguarda la mia idea personale è semplicemente stupendo che possa lui aprire questa cosa un po' a tutti perché poi è un po' l'obiettivo il sogno diciamo così tra virgolette un po' di tutti quanti noi quello di poter andare ad assistere magari a una settimana di allenamento nei professionisti quindi quelli che operano in A o in B con le prime squadre tutti quanti noi vorremmo vederli con mano sostanzialmente quello che fanno durante la la settimana capire un pochino quello che c'è dietro a quello che poi guardiamo in tv e quindi ne abbiamo già parlato ripeto con lui per me per il mio punto di vista è una cosa molto 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 bella e non è da tutti se avete domande le leggiamo altrimenti lo liberiamo in attesa di magari di vostre domande vi posso tra virgolette mister annunciare questo fatto che la registrazione di questa serata la potete trovare sul canale youtube del mister tra qualche giorno e quindi per chi magari la volesse rivedere o poi magari per chi questa sera non è stata presente la può rivedere la quante volte gli pare sostanzialmente ok mister diciamo che sono ecco allora alessandro ti chiede vedo che crede molto nell'utilizzo dei video fa tutto vincenzo allora appunto come ho detto prima tante volte noi entriamo in strutture già con degli elementi per esempio ad Ascoli c'era William che è un analista che è della società e la parte proprio di ripresa l'ha fatta sempre lui e anche certi montaggi poi dopo anche a me piace perché vedete che mi piace stare col computer in mano e soprattutto Vincenzo fa un grandissimo lavoro però alla fine siamo in tre a fare tutto questo la parte proprio pratica di ripresa e di scrematura dei lavori la faceva fare a William gli aveva fatto fare e io e Vincenzo invece facciamo la parte di studio dell'avversario studio dei nostri elementi perché fargli elementi e guardarli tutti i giorni non è semplice richiede tempo richiede anche tanta voglia che non è così sempre a disposizione e quindi ci dividiamo un pochino i lavori anche perché noi partiamo col primo allenamento con già l'analisi completa dell'Ascoli scusate sì della partita ultima dell'Ascoli e dell'avversario in maniera da fissare subito gli obiettivi perché se tu dopo la fai durante la settimana magari hai perso delle esitazioni o dei giorni che potrebbero esserti utili a toccare qualche argomento quindi abbiamo bisogno di lavorare quasi in anticipo poi durante la settimana continuiamo a vedere le partite soprattutto dell'avversario e i nostri allenamenti però appunto ci presentiamo alla ripresa già con un lavoro ben fatto mister Michele ti chiede quale squadra l'ha messo di più in difficoltà a livello tattico allora noi quest'anno abbiamo fatto abbiamo avuto una difficoltà dopo un mese abbiamo iniziato non voglio essere presunto ma giocare veramente bene e e tutti quelli che sono venuti a provare a fare la loro partita nei primi tempi hanno avuto difficoltà con noi nei secondi tempi abbiamo fatto snaturare tantissime squadre cambiando modulo e mettendosi tutti a specchio contro di noi col 4-3-1-2 e là quando si spegnevano non abbiamo più trovato delle linee di passaggio diverse penso a Cagliari che al primo tempo vincevamo 1-0 e poi vincevamo 4-1 penso al Venezia che non ha mai cambiato giocato a 4 ha giocato solo il secondo tempo proprio perché con noi faceva la fatica così come ha cambiato con noi su Tirol così come su Tirol cambia spesso così come ha cambiato praticamente ogni squadra che veniva ad Ascoli nei secondi tempi noi non siamo riusciti a a cambiare cioè cosa ci non avendo tanto tempo a disposizione sarebbe servito introdurre un secondo modulo o dei scivolamenti per un'occupazione diversa dei spazi cosa che proprio richiedeva troppo tempo e che non siamo riusciti a fare quindi noi siamo andati in difficoltà quando i primi tempi li facevamo bene nei secondi tempi il giocarci sui riferimenti un pochino ci creava delle difficoltà poi non è che è andata sempre male perché Pisa è venuta a Roma abbiamo vinto lo stesso col su Tirol è venuta a Roma vi invito lo stesso altre squadre sono venute a Roma e abbiamo ugualmente vinto però la situazione tattica che un pochino ci ha creato più difficoltà dall'inizio abbiamo fatto bene praticamente veramente con tutti perché abbiamo giocatori con grandissime qualità di palleggio fin da dietro e quindi veramente veniva a farci l'impostazione e creare subito delle grandi superiorità ci mancava forse una mezza punta di ruolo perché un pochino abbiamo usato dei giocatori adattati con delle belle caratteristiche e studiando degli sviluppi adatti appunto a come erano loro però logico che col Rombo col 4-3-1-2 la mezza punta ti cresce la mezza punta classica ti aumenta ancora di più poi l'efficacia negli ultimi 30 metri ok Andrea ti chiede mister oltre al giocitato Guardiola e poi sottito per l'esperienza Nascoli si ispira e o prova a prendere l'ispirazione da qualche allenatore in particolare se sì per quale meccanismo allora io quando subentro analizzo un modulo ormai io sono partito da primavera della regina faccio un po' di storia e sono partito con la difesa a tre nonostante da giocatore avesse fatto veramente poco il mio meglio l'ho dato con il 4-3-3 però l'ha andata così 3-5-2 3-4-1-2 3-4-3 con ottimi risultati e anche i primi anni prima squadra sia a Salerno sia a Reggio Calabria sia a Latina dove viene centrato la figura la finale playoff era quasi sempre a tre poi è capitato che torno a Latina e con i tre non andava bene e ho avuto difficoltà quell'anno là con la difesa a quattro e allora mi sono messo a imparare tutti seguendo tre quattro anni i ritiri di Sarri che in quel momento la difesa a quattro era quello che faceva meglio e andando proprio a codificare delle situazioni che mi mancavano Sarri tra le altre cose avevo fatto anche il corso il master quindi lo conoscevo bene e appunto mi è servito quindi io parto da aver tutti i moduli nelle mie proposte quando poi dopo vado a una squadra in quel periodo mi guardo tutti quelli che fanno quel modulo che ne so e anche quelli degli anni precedenti per esempio quest'anno ho guardato l'Empoli che giocava 4-3-1-2 ho guardato anche l'Empoli di Dionisi di due anni fa che ci avevo giocato contro e mi aveva messo in difficoltà sono andato a vedere qualche partita vecchia ancora di Sarri dell'Empoli anche se il calcio cambia sempre secondo me tanto indietro non conviene mai andare quindi ogni modulo mi vado a vedere se devo guardare il 3-5-2 mi guardo qualche uscita qualche sviluppo di Conte faccio un esempio se guardo il 3-4-3 3-4-1-2 mi guardo Gasperini Juric quelli là se guardo il 4-2-3-1 mi guardo qualche altro allenatore se guardo il 4-3 mi guardo riguardo Sarri cioè però non è mai un copiare è un ripassare e poi appunto studiando adattarlo alle caratteristiche dei miei difensori faccio un esempio se guardo Sarri so che lui la linea difensiva la fa in una certa maniera dove i riferimenti non sono mai l'uomo ma sono la palla dove sono l'avversario e per l'ultimo il compagno scusa la palla il compagno e per l'ultimo l'avversario ma io ho poco tempo per trasmettere questo e tante volte ho giocatori stranieri qua noi per esempio giocavamo con dei difensori stranieri e quindi devo adattare una proposta alle loro caratteristiche dove andare al suo riferimento mi viene più semplice sempre un contesto organizzato e di reparto infatti abbiamo visto che ci sono esistrazioni anche di reparto ma molto meno spinte di come le fa salve quindi avendo sempre mettendo come primo riferimento ancora l'uomo poi il compagno la pace tutte cose un pochino diverse e perché dovevo trovare una proposta subito e immediata se dovessi trovarmi dei giocatori diversi cambierei in ogni caso sviluppi io credo che noi dobbiamo conoscerli tutti quanti poi nei principi rimango fedele per esempio un mio principio di andare velocemente in avanti ce l'ho con tutti i moduli e con tutte le idee anche se poi un anno mi è capitato di fare una manovra diversa perché avevo giocatori diversi però come idea ce l'ho quasi sempre devo conoscere il più possibile devo saper fare più cose possibile e devo avere una metodologia che riesca a trasmetterle nella maniera più concreta possibile e nella metodologia abbiamo visto prima non cose estetiche ma roba efficace che magari sembrano anche a volte semplici ma che sicuramente sono molto dirette e che nel tempo arrivano subito a trovare una risposta allora Francesco dico una bella domanda quanta importanza dall'aspetto mentale dei calciatori e quali possono essere le attività consigli che aiutano i calciatori a ritrovare la fiducia e la personalità oltre all'aspetto dei duelli che hai già citato allora io credo molto nel rapporto e nell'aspetto mentale quando andavo a coverciano a me le lezioni che piacevano di più erano comunicazione e psicologia oltre che la parte tattica proprio perché e ci ho studiato tanto dopo anche questo e sono convinto che a di là delle parole ci siano poi dei strumenti che ti possono aiutare quali? i video per esempio sono dei grandi strumenti perché ti fanno guardare al tempo e soprattutto tolgono delle errate certezze nei ragazzi tante volte i ragazzi sono convinti di una cosa se non la vedono non si rendono conto che non è così e quindi ti guadagno il tempo poi faccio video di reparto di squadra e anche individuali e sono tutti strumenti comunicativi a volte voglio mandare un messaggio forte a un ragazzo me lo prendo per conto suo anche quando magari sta andando bene a volte so che con me va un po' in tilt e magari gli mando Vincenzo a far vedere il video perché so che con lui ho il rapporto dove il ragazzo dice più quel che pensa e quindi è più aperto e quindi i video sono una cosa le esercitazioni sono altri strumenti fondamentali perché appunto trasmettono convizione e aumentano l'autostima abbiamo detto come prima di uno contro uno ma per esempio io faccio dei tornei dove insegna chi la squadra che vince rimane in campo e anche quello è una maniera per non subir gol per cercare di segnare per cercare di creare quella mentalità di chi appunto non vuole perdere che tante volte invece la vedi avete visto il video dell'atletico contro il Barcellona che è un altro strumento per dare un messaggio io uso molto i video anche di serie A o dei campioni perché dico se lo fanno loro possiamo farlo anche noi e tante volte non è che i campioni fanno cose solo cose strabilianti tunnel palla di incrocio fanno anche semplice in maniera molto semplice ma molto efficace le cose semplici ma che appunto sono fondamentali come i controlli e da lì la posizione del corpo e la scelta i passaggi che hanno delle velocità in serie A impressionanti e sono nella direzione giusta nella traiettoria giusta cioè cose che se tu vedi che le fanno i giocatori veri sono importanti poi dico magari faccio vedere Giorginio che in certe cose è un fenomeno la posizione del corpo e dico ok ragazzi questo io ci giocavo contro in serie C perché lui era Verona e lui era Salernitana essendo andati a fare la finale del playoff contro ed è arrivato a vincere la Champions è arrivato a vincere il campionato europeo con la nazionale italiana quindi anche la voglia di migliorarsi e di non trovare alibi è fondamentale e credo che questi sono messaggi che danno forza scusa questi sono strumenti come i video che danno forza ai tuoi messaggi quindi un pochino e tantissime altre esercitazioni le studio proprio perché hanno un messaggio psicologico importante l'idea di fare una palla inattiva e di ripartire veloce sia a attaccare o a difendere è un'idea che tu se la provi in certe esercitazioni la rendi poi automatica a tutti non solo ai difensori ma anche ai centrocampisti attaccanti e su tutte cose che io metto dentro nelle mie esercitazioni un'altra domanda di Ernesto ti chiede mister quale pensa possa essere il prossimo cambiamento evoluzione nelle dinamiche tattiche calcistiche io credo che il discorso dell'uno contro uno sarà un pochino sempre più spinto o in ogni caso della riaggressione immediata perché appunto se vediamo anche Guardiola a dià del grande possesso ha subito una grande riaggressione se poi studiamo allenatori come italiano o come De Zerbi vediamo che ci sono i primi casi di contromisure e vediamo che appunto l'Atalanta contro le squadre italiane va sempre in difficoltà quindi siamo già allo step successivo poi magari non è che l'Atalanta li vince tutte ci mancherebbe però credo che se non ci soffermiamo agli episodi è stato fatto a Firenze un lavoro fantastico in questi due anni perché è passato da essere una squadra che nonostante le ottime rose ci salvava sempre le ultime giornate a andare prima l'anno scorso a entrare nelle coppe e quest'anno a centrare due finali poi non è andata come era voluto però sono sempre due finali poi uno può essere d'accordo o no però si vede che c'è un lavoro dietro abbiamo visto appunto come isolano come una volta si diceva bisogna mantenere le distanze giuste invece adesso c'è l'idea di spaccare le squadre apposta da una parte dall'altra per creare delle zone o di superiorità o di parità numerica magari nella difesa avversaria quindi questo è già lo step successivo e abbiamo visto che questo non dipende più solo dai moduli ma anche più dai principi perché appunto si fa un po' con tutti i moduli un altro da studiare sicuramente è Spalletti col suo Napoli di quest'anno perché ha fatto in pochissimo tempo e cambiando stravolgendo una rosa che era ben consolidata ha fatto un lavoro fantastico anche là potremmo parlarne ore in entrambe le fasi noi abbiamo visto l'anno scorso che sicuramente è la base di quest'anno ma che poi su questa base sono stati portati tanti cambiamenti ecco ragazzi questa era l'ultima domanda che c'era c'è scritta mister Alessandro invece di fare complimenti per la dialettica e la chiarezza dei concetti espressi la seguirò sicuramente grazie tanto allora io credo che appunto noi allenatori dobbiamo sempre partire da un presupposto che non dobbiamo mai dire io sono fatto così in che senso l'idea di partire con i video è anche un'idea di mettersi la prova perché un conto è spiegarlo e parto anche per esempio da YouTube per esempio è spiegarlo ai tuoi giocatori o a degli addetti e lavori un conto è spiegarlo a chi non è alla minima idea io ho amici che mi dicono mi hai aperto un mondo perché non pensavo che dietro una partita ci fosse tutta questa roba qua e quindi il concetto è far dei video vuol dire mettersi alla prova perché vi garantisco che vedete che adesso io parlo con voi e non sono abbastanza non ho grossi problemi ma quando devo parlare davanti solo a una telecamera e devo per esempio fare i video è una fatica enorme perché parlare con un puntino verde che ti guarda e sapendo che non c'è nessuno che ti ascolta è veramente una grande sfida e mi richiede un lavoro enorme cioè mentre qua parlo per ore la devo ripetere per ore e però è una sfida perché poi dopo te li ritrovi anche quando parli con i tuoi ragazzi perché hai una metodologia nella comunicazione che è allenata e visto che tante volte magari non puoi allenare la squadra perché sei senza alleni la comunicazione migliori la comunicazione e nel frattempo fare i video mi tra virgolette costringe anche a studiare le nuove metodologie e le nuove aggiustamenti prima parlavamo della Juventus e dei Allegri e lui ha detto una frase che appunto io non lo giudico però la vedo un po' strana lui ha detto quando sono stato fermo un anno non ho visto una partita ecco io questa qua non riuscirei perché secondo me un anno è tanto cambia tanto il calcio e bisogna secondo me rimanere un pochino senza poi lui ha delle doti che io non ho e che ugualmente gli permetto di essere a Juventus e ugualmente di fare il suo lavoro in maniera ugualmente secondo me egregia anche se certamente in questo momento è un po' criticato però io parto dall'idea che devo vedere partite devo studiare e devo soffrire più cose possibili e là fare questo tipo di cose anche quindi anche appunto le YouTube anche appunto dentro al mio canale al mio sito faccio consulenze perché l'idea appunto è che proprio degli uno contro uno dialettici con chi vuole migliorare e spiegare cosa appunto come si gioca come vedere le loro partite e dirgli guarda secondo me questo è giusto questo no e avere un uno contro uno dialettico costruttivo con una persona è sempre nell'idea di creare di migliorare la mia comunicazione e in ogni caso anche di distribuire contenuti perché credo che sia cosa che uno poteva avere anche come obiettivo mister io eccomi io ti 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 libererei con l'ultima domanda di Ernesto che non so se alla quale puoi puoi rispondere però diciamo ti libero con questa domanda Ernesto ti chiede il mister rimane ad asco lui? no non rimango ad asco mi spiace anche perché secondo me si poteva fare un ottimo lavoro sulla base all'anno scorso però hanno scelto in maniera diversa ma il nostro lavoro è questo bisogna sempre guardare avanti e cercare anche la nuove sfide io parto sempre da un'idea lavoro su quello che posso determinare se poi non mi volgono poi per mille motivi nel senso che sicuramente anche io sapevano che gli avrei chiesto delle cose un po' particolari forse forse a loro queste cose non andava bene farle ma anche se non fosse per questo o per altri motivi insomma bisogna sempre guardare avanti e cercare sempre di migliorarsi io conosco solo questa maniera forse sbaglio perché appunto tipo quest'anno mi sarebbe piaciuto andare avanti però ecco su questo appunto più a dire non bisogna mai dirlo ma sono fatto così io mi concentro sul lavoro penso che bisogna fare così ultimissima dai ragazzi mister Michele chiede quanto peso dà il possesso palla anche là in base alle caratteristiche dei miei giocatori se ho un portiere e dei difensori centrali che non hanno difficoltà a impostare non posso dargli peso se ho invece un portiere difensori centrali e i centrocampisti bravi a impostare giustamente ci lavorerò molto però è sempre un possesso palla improntato a creare superiorità da qualche parte e poi di andare veloce in avanti faccio un esempio il rombo non ha ampiezza di base quindi tu trovi al centro una superiorità però secondo me come abbiamo visto per esempio con Perugia che se tu lo muovi da una parte all'altra si apre soprattutto al centrocampo poi dopo quando nei vari cambi gioco tu trovi una superiorità e come facevo vedere che i terzini devono puntare il quinto devi andare veloce fino in fondo da quella parte là quindi il possesso palla mi serve per creare queste iniziazioni e queste superiorità e poi dopo però devo andare veloce in avanti